ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi video prove su strada volevo mostrarvi questo acquisto che ho fatto alla ledel un po di tempo fa verso marzo aprile ed è un set che lo trovate ciclicamente in quel negozio è un set di pieghevoli in pratica sono dei fogli per origami e ogni foglio è 15 cm x 15 quindi sono dei quadrati da 80 grammi e in tutto sono 100 pezzi nella confezione ci sono le istruzioni per alcuni origami che magari vedremo in seguito con in dettaglio con un video a parte così magari posso mostrarvi come si fanno se volete un video a riguardo lasciatevano nei commenti e poi il set è ovviamente composto da più carte hanno varia varia fantasia e devo dire che sono molto carini questi in particolare sono a tema pasquale infatti abbiamo coniglietti ovetti fiori eccetera molto carini ora proverò a realizzare seguendo queste istruzioni e la scatola iscriviti al nostro canale 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 e la parte sotto però devo dire che dovrete leggermente modificare il modello perché essendo uguali non si incastrano perfettamente quindi va leggermente modificata la dimensione del foglio poi devo dire che come fogli mi piacciono molto non sono né troppo spessi né troppo sottili quindi per quello che vi posso dire secondo me sono molto indicati appunto per creare tantissimi origami poi essendo anche con doppia stampa è possibile impiegarli in vari modi nelle istruzioni ho spiegato anche come realizzare la scatolina la carutina e anche un carinissimo coniglietto se volete un video al riguardo lasciatemi un commento sotto oppure vedete e controllate la playlist nel mio canale se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e nei commenti lasciatemi qualsiasi tipo di suggerimento iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo al prossimo ciao